Il catalogo degli oggetti in vendita all'ufficio relazioni con il pubblico è il primo volume rilasciato online in formato flipping dal Consiglio regionale. Questo particolare tipo di pubblicazione in formato libero su internet permette di sfogliare le pagine di un documento digitale come se si trattasse di un documento cartaceo. Il catalogo è disponibile sul sito del Consiglio nella sezione URP alla voce Bookshop.